Il 734 ha un grande valore evocativo per la nostra città perché richiama il suo anno di fondazione che fu il 734 a.C. e per noi che miriamo non da soli ma insieme ad altri a costruire insieme la rinascita della città parlare di rinascita può essere fatto anche richiamandosi all'anno di nascita quindi questa è stata la volontà e questo per noi diventa anche l'obiettivo perché chiaramente attorno al 734 c'è la volontà di costruire spunti programmatici, volontà di intervento sulla nostra città che appartengano a tutti i settori della vita associata che purtroppo oggi risentono di una cattiva amministrazione cittadina A questo movimento è legata una serie di appuntamenti, un percorso di avvicinamento alle prossime amministrative Oggi presentate i candidati Sì, noi abbiamo avuto una prima uscita il 12 gennaio con la presentazione alla città in un luogo che era significativo per noi perché l'auditorium dell'area marina protetta del Plemirio richiama la storia cittadina e richiama anche la sua vocazione verso il mare quindi anche il tema della tutela ambientale che a noi è particolarmente caro e già in quell'occasione abbiamo avuto l'opportunità di presentare i nostri primi 10 candidati al Consiglio Comunale e parlare attraverso di loro, delle loro storie, delle loro professioni, delle loro attitudini, dei talenti, delle passioni che li contraddistinguono anche di quelli che possono essere i nostri impegni per la città Oggi per noi è il secondo appuntamento e prosegue sempre sulla stessa scia Altri quattro amici, due uomini e due donne, oggi verranno presentati alla città con i loro impegni e ovviamente portano con sé una storia, una storia che è anche significativa attraverso di loro parleremo di sport, di affido familiare, di gestione ambientale in particolare il tema dei rifiuti che è molto critico nella città di Siracusa e di eventi, manifestazioni, iniziative culturali per la nostra città Fernanda Pellegrino Sì, questo è il mio nome Una candidatura che nasce da cosa? Una voglia di scommettersi? Beh, più che una voglia di scommettermi io sono un'attenta osservatrice di quello che accade qui sulle questioni ambientali sono un esperto di normativa ambientale lavoro in questo settore da 20 anni e ho visto delle cose, diciamo, che sarebbero perfettibili in questa città mi piacerebbe dare un contributo con la mia esperienza tutto qua Una priorità che affronterebbe subito? Ah, di sicuro l'igiene urbana il primo punto per più di un motivo diciamo perché è perfettibile e perché è motivo di decoro per questa città avere, diciamo, un servizio all'altezza di una cittadina di 123.000 abitanti per un prezzo che fra l'altro è esorbitante rispetto a quello che è il servizio che viene erogato penso che si possa fare molto meglio e bene Alla prossima